Attualmente per la casa di cura alla quieta ci sono degli spiragli, spiragli vuol dire che in questo momento prendono un po' di ossigeno i dipendenti, dopo 10 mensilità l'ASL con una piccola rimessa riesce a pagare 2 mensilità, comunque la proprietà, la società sta sotto attacco continuo di Equitalia e l'Agenzia delle Entrate, dovremmo avere risposte dall'Agenzia delle Entrate e da Equitalia non molto tempo per la gestione del problema e per la ristrutturazione dei debiti, se nel caso in cui questo non andasse in porto ci sarebbe il fallimento dell'azienda e la messa in mora, purtroppo 102 persone che lavorano e devo dire 100 persone che lavorano con dedizione, visto che dopo 10 mensilità si continua a lavorare serenamente, i pazienti sono correttamente assistiti, anzi devo dire più che assistiti, ci troviamo a dover sopportare e a dover decretare la morta di una struttura per le istituzioni. Tutta la CIS del lavoro pubblico è impegnato in questa nuova campagna elettorale per l'elezione dell'RSU, chiediamo che vi sia una grossa attenzione alla nostra organizzazione sindacale per radicarlo ulteriormente nel territorio a difesa dei diritti fondamentali delle persone, dei cittadini, dei lavoratori. Come siamo soliti a dire stiamo andando da un'altra parte, cerchiamo che questa sia la volta buona che si vada dalla parte della gente, delle comunità di riferimento e dei lavoratori. Siamo in una situazione complessiva di tutto il settore pubblico che è un po' in crisi complessiva, viene attaccata da tutte le parti, vi è un tentativo di abbattimento di tutti i diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione, giustizia, istruzione, sanità ed è impossibile che non ci sia effettivamente un ricompattamento su quella che è la difesa di questi fondamentali diritti delle persone.